Non tarda ad arrivare la risposta del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, in merito alla questione dei canalotti di punta a braccetto. Cassì, infatti, fa presente che il Comune ha già preso i dovuti provvedimenti e che quindi le azioni di Legambiente risultano, a suo dire, superate dagli eventi. Legambiente è presentato o esposto alla Procura denunciando illegalità, abusivismo e permessi a costruire i rilasciati dal Comune viziati dalla carenza della valutazione di impatto ambientale. Un parcheggio con annesso casotto irregolare da costruire all'interno di un'area vincolata. L'esposto di Legambiente nei confronti del Comune risulta superato dagli eventi, commenta il sindaco. In merito alla questione del parcheggio, ho chiesto agli uffici un rapporto di servizio al ricevimento delle prime segnalazioni. Il dirigente di settore, con atto del 23 agosto inviato al Legambiente, ha comunicato di aver annullato in autotutela il permesso di costruire rilasciato. Il dirigente, inoltre, ha proceduto al ripristino dello stato dei luoghi disponendo la rimozione del casotto e della base di calcestruzzo realizzati. È stato, inoltre, disposto il divieto di utilizzo dell'area a parcheggio. Il Comune ha poi disposto la trasmissione dell'atto al servizio illeciti edilizi per i conseguenti provvedimenti. Il sindaco, insomma, ribadisce che l'amministrazione ha fatto quanto dovuto per impedire l'accesso dei veicoli a ridosso della costa, in quel parcheggio di fatto dentro il limite di 150 metri dalla battigia e in area protetta, da sempre quindi utilizzato dai fruitori del sito. Grazie a tutti.